Questa arteria autostradale taglia di fatto in due la città. Qui vediamo un esempio in cui proprio la città viene tra parchi urbani, ville storiche e abitazioni, la città viene lacerata. Quando fu aperta al traffico nel 1972 la tangenziale di Maestra era stata progettata per sopportare il passaggio di 55.000 veicoli al giorno. Trent'anni dopo ne circolavano più del triplo, tanto che nel 2003 la corsia d'emergenza divenne terza corsia. Poco dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza per il traffico di Maestra da parte del governo. Oggi sappiamo che esiste il passante già dal 2009, quindi crediamo sia giunta l'ora per attuare quel progetto già previsto nel PAT della tangenziale verde. Ossia attuare tutta una serie di interventi di mitigazione ambientale. Anche perché sappiamo bene che non è soltanto un problema acustico o visivo, ma ha un impatto molto forte dal punto di vista sanitario. Dieci anni fa uno studio epidemiologico dell'Università di Padova e dell'ARPAV tra i circa 5.000 residenti nei pressi della tangenziale rilevava un incremento del 10% sulla media cittadina di cardiopatie ischemiche e di bronchite cronica. Giuseppe Sacca è il primo firmatario di un'interrogazione a Caffarsetti sulla situazione della tangenziale di Maestre, un'interrogazione sottoscritta nella quasi interessa dai consiglieri d'opposizione. Tutte le minoranze unite per chiedere che si riprenda il progetto della tangenziale verde e quindi chiedere all'amministrazione di prendere degli impegni precisi in tal senso e mentre incominciano dei lavori effettivi anche aggiornare questa indagine epidemiologica che prima ho citato che è del 2012 ma i dati sono fermi al 2009 e quindi bisogna monitorare qual è la situazione oggi dell'impatto di questa arteria. Grazie 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 Grazie